Sono i certi afro, uno dei pochi in vita di queste fotografie. Questo Don Giovanetti era un personaggio molto importante, questo è Bertani Paolo che diventò campione italiano, questo è Sturloni Enrico, gli altri non li conosco, però c'erano altre foto, ci scambiavamo le foto. Siamo andati a Firenze, perché la corsa l'abbiamo vinta a Firenze e a Firenze siamo andati in macchina, abbiamo fatto la corsa, il nostro sponsor era Galaverni delle latterie. Galaverni si trovava a Firenze a un congresso sindacale. Quando venne a sapere che noi avevamo vinto la corsa e una bella coppa, credo ci sia anche la foto di quella coppa, io avrei dovuto fare un discorso sul palco del Palazzo dei Tabacchi a Firenze, non mi sono tentato, allora fece tutto Don Giovanetti, il premio c'era da stare una settimana a Firenze a visitare Firenze in bicicletta che era una meraviglia. Dopo una settimana siamo andati in stazione io e Bertani perché gli altri già erano venuti a casa, ci siamo guardati in faccia e poi abbiamo detto aspettiamo il treno, ma tardava ad arrivare, ci siamo guardati un po' e poi senza parlare ci siamo capiti, andiamo a casa in bicicletta e questo l'abbiamo fatto, era a maggio del 1949, abbiamo fatto la punta a venire a casa, a maggio nevicava sulla punta e ne parlo tutti i giornali italiani, mia mamma aveva questi giornali, ma adesso non c'è più traccia, non so che fine abbiamo fatto. Siamo arrivati a Bologna e poi dopo Bologna Reggio a 50 l'ora perché poi in bicicletta venne a casa anche lui, Sturroni, è stata un'esperienza da sogno, io a vedere questa foto mi commuo piano piano, è stato bellissimo comunque, ma allora lui era grande, era forte, ma nello sport allora era attivo in tutti gli sport e io che corrivo in bicicletta a Odone mi fece anche correre a piedi, ma non sono mai arrivato alla fine, in bicicletta invece andavo bene, ero forte. Luis è sempre stato una meraviglia, c'è delle foto, Odone ne aveva tante, io questa foto gliel'ho chiesta, dice sì però tu mi dai quelle dove sei tu, Sandro Pertini e Togliatti. Io le diedi la foto, però l'originale ce l'ho io, l'ho fatto fare una copia e lui non mi diede mai questa, però ci volevamo bene lo stesso.